Vorrei parlare un attimo di questa nuova legge appena entrata in vigore sulla classe di merito familiare visto che se poteva in qualche maniera facilitare gli assicurati contro il superpotere delle società di assicurazione il regalino che però il governo ha riconosciuto a queste ultime con il super malus che porta di colpo a 5 classi di rischio inferiori nel caso di danni nei confronti di veicoli di classe inferiore a questo punto non fa che peggiorare le cose e visto che le stesse assicurazioni hanno già in qualche maniera fatto capire che aggireranno questa legge semplicemente aumentando le loro tariffe ecco se io fossi un politico una delle prime cose a cui mi dedicherei sarebbe questa perché quando spiego in giro la differenza tra moralità e legalità spesso faccio proprio questo esempio quante volte un incidente automobilistico è dovuto a una distrazione magari sei anche stressato magari nel bel mezzo di una separazione o di ritorno da un licenziamento e quella distrazione ti costa cara costa cara a te e costa cara a chi si trova nella tua traiettoria ebbene quando cito questo esempio lo faccio per far capire quanto spesso una colpa da un punto di vista legale come per esempio appunto una mancata precedenza verificatasi per pura distrazione non corrisponda assolutamente ad alcuna colpa da un punto di vista morale perché per quest'ultima per una colpa di tipo morale è necessaria sempre la volontà l'intenzione la disposizione d'animo a compiere un certo gesto di proposito volontariamente e quasi mai diciamolo un incidente è voluto ecco io credo che passare la vita a tirar fuori obbligatoriamente per giunta quintali di soldi da versare alle assicurazioni basti e avanzi per essere coperti del danno altrui ok ma anche del nostro credo che questo distinguer tra chi ha ragione e chi ha torto a parte i pochi casi in cui davvero si tratti di gravi irresponsabilità o di precisa intenzione di fare un danno magari che ne so per vendetta sia soltanto una gran fregatura un modo per far soldi per farne tanti come al solito in modo migliore anzi che istituti finanziari come questi si sono inventati per accumulare miliardi e miliardi da reinvestire in immobili di lusso moltiplicando a dismisura così i loro imperi ecco io se fossi un politico lotterei anche per questo per far sì che questa distinzione tra chi ha torto e chi ha ragione in un normale incidente stradale ai fini del risarcimento cadesse che un povero diavolo che usa la sua utilitaria per portare tutti i giorni a casa al pane i suoi figli che già è costretto a star dietro ai capricci delle case automobilistiche con quei loro cazzo di euro 5 euro 6 eccetera che già è obbligato a tirar fuori centinaia di euro all'anno per una tassa di circolazione che è un salasso incostituzionale non si vedesse addirittura rovinato nel momento in cui magari dopo una decina di ore alle presse a causa della stanchezza accumulata sbagliasse una manovra e si trovasse costretto a sborsare migliaia di euro migliaia di euro sì magari indebitandosi pure per riaggiustarsi la sua vecchia auto e per ripagare anche quell'assicurazione che vanta giri d'affari miliardari spremendo migliaia e migliaia di sfigati come lui che non fosse costretto insomma a tirar fuori tutti quei soldi magari dopo decine e decine di anni di polizze pagate a vuoto senza mai aver provocato danni a nessuno ecco io credo che un politico debba fare così debba mettersi al servizio degli umili di quelli che vivono soltanto per sopravvivere di chi passa le sere a spaccarsi la testa sulle bollette da pagare invece che spartir la torta coi banchieri e prosperar viscidamente sull'infelicità della sua gente buonasera